Quindi non ti ha visto? Allora vuol dire che non ti ha riconosciuto. Ma tu hai visto lui e sei pronto a testimoniare. Ti spediranno da qualche parte. Chissà tu ne lo so. Parli italiano? Italiano, capisci? Sono italiano, siciliano. C'è qualcuno qua. E' certo che c'è qualcuno, è un residence. E' mica tutto tuo. Qua siamo a un passo dalla morte. D'altronde si vive rischiando. Mi hai trovato. Chi non sa nessuno che sei là? Ti dico che è l'ogno. E' un invito per cena. Buono. L'hanno arrestato appena hai testimoniato. Come l'ha messo dentro ha cominciato a parlare. Diventato collaboratore di giustizia. E' un pentito. Adesso sta con noi. Qua io posso essere chi giochi in foglio. Mattia ti manco passato. Mi manca i miei figli. Come l'ho. Come l'ho. Compa. Un battito di Alana, come closer La più grande fortuna